Ancora open day nel Cilento dedicati alle vaccinazioni per coloro che non hanno ancora avuto la possibilità di vaccinarsi o per chi deve fare il richiamo. Oggi, lunedì 6 settembre, martedì 7 settembre, mercoledì 8 settembre, giovedì 9 e venerdì 10 settembre, in diverse località cilentane i centri vaccinali dedicati apriranno dalle ore 15 alle ore 19 per le prime seconde dosi di vaccino Pfizer. Non sarà necessaria la prenotazione, ma bisognerà portare con sé la tessera sanitaria. L'iniziativa è rivolta a tutti i residenti del distretto 70, i quali potranno comodamente recarsi presso il proprio centro vaccinale di riferimento. Di seguito riportiamo il calendario delle sedute vaccinali della settimana in corso. Lunedì 6 e martedì 7 ad Agropoli, presso la sede della Croce Rossa. Mercoledì 8 invece a Santa Maria di Castellabate, giovedì 9 ad Acciaroli e venerdì 10 di nuovo ad Agropoli, presso la sede della Croce Rossa, al centro vaccinale città di Agropoli.